Buonasera, buonasera anche dalla TGN, allarme in tutte le scuole del paese nonostante le rassicurazioni oggi del Presidente del Consiglio Conte perché ad esempio nelle scuole milanesi lunedì alla ripresa delle elezioni mancheranno ben 20.000 insegnanti, colpa della pubblicazione in ritardo delle graduatorie e anche degli errori del sistema informatico, ma ci racconta tutto Michele Lanati. Lunedì all'appello del primo giorno di scuola negli istituti milanesi mancheranno probabilmente circa 20.000 supplenti, docenti non ancora assegnati alla scuola di destinazione che non avranno un posto in tempo utile. I ritardi per l'elaborazione delle graduatorie provinciali per le supplenze che avrebbero dovuto essere pubblicate il primo settembre hanno comportato uno slittamento di tutto l'iter che dunque non potrà essere completato per lunedì. Le liste non sono ancora definitive a causa di alcuni errori del sistema informatico e poi ogni singolo docente ha 5 giorni a disposizione per segnalare eventuali anomalie, quindi serve la rettifica dei punteggi errati per poter avere la certezza che l'assegnazione sia corretta e considerando che le liste sono arrivate solo lunedì 7 è impossibile che tutto vada a regime entro il 14, senza considerare poi le rinunce perché c'è anche chi magari già lavora nelle scuole private o paritarie e dice no ad un contratto a tempo determinato in quelle pubbliche. Dei 20.000 posti vacanti 12.000 circa sono per il sostegno, dunque a pagarne le conseguenze saranno soprattutto gli studenti che necessitano di assistenza, con la conseguenza che in alcune scuole elementari c'è il rischio che si debba optare per l'orario ridotto. La Lombardia, più delle altre regioni, sconta anche il fatto che nella nuova impostazione a livello nazionale non si tiene conto delle particolari esigenze del territorio. A questo si aggiungono i problemi relativi alla messa in sicurezza anti-covid degli istituti, motivi per cui l'Associazione Nazionale Presidi ha chiesto aperture differenziate, valutando caso per caso. E a proposito di covid c'è una buona notizia perché arriva un nuovo test rapido, tutto italiano, capace di dire in soli tre minuti se si è positivi o meno al covid. Dalla saliva tutto questo, si chiama Daily Tampon, è stato realizzato in un'azienda brianziola di Merate in provincia di Lecco in collaborazione con l'Università del Sannio. Il Daily Tampon fornisce il risultato come un test di gravidanza, come vedete dalle immagini, positivo due strisce e negativo una. Si propone come un esame utile a gestire flussi di massa, come ad esempio negli aeroporti. La Allum di Merate ha spiegato di poter produrre 20 milioni di tamponi per il covid. Il test funziona così, si preleva un campione di saliva con un cotton fioc, si appoggia sul tampone e in tre minuti il tampone dà il risultato. Il prodotto dovrebbe avere un prezzo molto inferiore all'attuale tampone, circa la metà di quello che costa attualmente un tampone. In un primo momento era stato detto che il test aveva ricevuto l'approvazione del Ministero della Salute e quindi poteva partire la produzione. Ma è lo stesso Ministero della Salute a chiarire che la ricerca su tutti i tipi di test rapidi, compreso quello salivare, ma non c'è alcuna validazione da parte del Ministero della Salute. Quindi è pronto ma deve ancora essere validato. Sempre sul covid i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 218 di cui 39 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologico a fronte dei 21.368 tamponi effettuati. Si registrano tre nuovi decessi. I nuovi guariti dimessi da ieri sono 112 e le persone in terapia intensiva 27 come ieri. Nelle province nuovi casi sono suddivisi così come vedete dalla grafica. 88 a Milano e provincia di cui 50 a Milano città, Bergamo 12, Brescia 24, Como 2, Cremona 7, Lecco 3, Lodi 5, Mantova 13, Monza e Brianza 14, Pavia 16, Sondrio 3 e Varese 24. Mentre il professor Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi, ha fornito il bollettino giornaliero per quanto riguarda l'ex premier, ha detto si conferma favorevole l'evoluzione clinica dell'infezione polmonare per Silvio Berlusconi, ricoverato per il sesto giorno consecutivo all'ospedale San Raffaele. Queste appunto le parole di Zangrillo che ha anche aggiunto tutti i parametri monitorati presentano valori molto confortanti. Cambiamo argomento, 18 persone sono state fermate dalla Polizia di Stato per l'organizzazione degli spostamenti dei migranti dalla Libia. Al centro delle indagini tre bar milanesi a Porta Venezia da cui l'organizzazione criminale gestiva il traffico di persone chiedendo fino a 2.000 euro alle famiglie per il trasporto. Massimo Scarenzi. La tratta dei migranti vede ancora una volta Milano al centro delle indagini della Procura di Palermo. Dalla Libia al capoluogo Lombardo migliaia di giovani ragazzi trasportati con tariffe da capogiro. Il sistema svelato dall'ultima indagine coordinata dalla Polizia di Stato ha portato al fermo di 18 persone. Cittadini eritrei delle cellule della Lombardia e del Friuli intermediari per il viaggio della Speranza. A Milano la base operativa del sistema si trovava in tre locali della zona di Porta Venezia, luogo di tradizionale immigrazione eritrea dall'inizio del secolo scorso. Questi i tre bar milanesi al centro dell'indagine, il bar Malibu di via Felice Casati e i bar Iguinette ed Eritrea di via Lazzaro Palazzi. Il sistema è semplice, i parenti dei migranti da trasportare verso la Lombardia utilizzano dei transfer di denaro da 800 euro attraverso il sistema di scambio di valori Hawala. Quando il viaggio è concluso positivamente arriva la seconda tranche da parte delle famiglie con un pagamento di altri 1000 euro. Il denaro riscosso dall'organizzazione viene poi girato ai referenti Medio Oriente e Nord Africa. Gli organizzatori sono spesso le stesse figure che gestiscono i campi di prigionia. A misurata in Libia ci sono circa 25.000 persone in attesa di partire che vivono all'interno di hangar molto grandi dove possono trovarsi anche 1.500 persone. I soldi dei trafficanti sono poi al sicuro a Dubai negli Emirati Arabi come scoperto dalla procura di Palermo grazie anche alle erogatorie internazionali. Ancora cronaca, la Regione Lombardia all'annuncio dell'assessore alla sicurezza Riccardo Decorato. Regione Lombardia inserirà nei prossimi bandi finalizzati all'acquisto di dotazioni strumentali per le polizie locali Lombardi anche gli sniffer palmari. Si tratta di apparecchiature come vedete dalle immagini in grado di riconoscere e rilevare la maggior parte delle sostanze stupefacenti. L'avviso riservato ai comuni e alle unioni di comuni e comunità montane sarà pubblicato entro la fine del 2020. Anche lo scorso anno ha detto Decorato i risultati del bando sono stati molto positivi. In particolare gli enti hanno acquistato fototrappole, droni, bodycam e auto elettriche. Da quest'anno avranno la possibilità di acquistare gli sniffer, strumenti utilissimi per rilevare le droghe. Stiamo lavorando per pubblicare l'avviso entro il prossimo mese di ottobre. Un fenomeno quello dello spaccio purtroppo in aumento in Lombardia. Il mercato è in mano a bande senza scrupoli. Tra gli ultimi episodi ricordo l'arresto di un extra comunitario per spaccio dopo aver minacciato con un macete i carabinieri che lo hanno sorpreso in un'area boschiva a Solara. Cambiamo argomento dopo aver incassato ieri l'appoggio della sua maggioranza che ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni. Oggi il governatore Attilio Fontana ha attaccato il governo sulla gestione del Covid e ha anche inviato una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Vediamo. Il giorno dopo la mancata approvazione della mozione di sfiducia nei suoi confronti, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana passa al contrattacco e come preannunciato nel mirino finisce il governo con una lettera inviata al capo dello Stato Sergio Mattarella dai governatori di centrodestra in merito alla gestione del coronavirus. La democrazia è anzitutto dialogo, lealtà istituzionale e trasparenza, ha scritto Fontana su Facebook. Ci siamo sentiti costretti a scrivere al capo dello Stato chiedendo un suo intervento chiarificatore. I fatti emersi sulla mancata informativa del rischio pandemico da parte dell'esecutivo verso le regioni è ingiustificabile, è una condotta che definisco di assoluta gravità. Se le regioni fossero state avvisate, ha aggiunto Fontana, quel vantaggio organizzativo di dieci giorni sulla pandemia sarebbe stato vitale nella guerra al virus assassino. Nel frattempo emergono dalle indagini altri particolari in merito alla questione camici. Secondo alcuni organi di stampa, una fornitura da circa 1.200.000 euro avrebbe potuto essere comprata da Aria, la centrale acquisti di Regione Lombardia, e un'altra per un importo di circa un milione e mezzo dal Pio Albergo Trivulzio. È l'affare, poi sfumato, a cui avrebbe mirato Andrea Dini, il cognato del governatore Lombardo Attilio Fontana, nonché patron della Dama SPA, l'azienda fornitrice dei dispositivi di protezione individuale anti-covid, al centro dell'inchiesta della Procura di Milano, in cui gli stessi Fontana e Dini risultano indagati. Prego di Milano, missione compiuta per la tunnel boring machine, le cosiddette talpe, al lavoro per la nuova linea 4 della metropolitana milanese, al cantiere della stazione Solari, della prima delle due talpi e 620.000 metri cubi di scavi lungo i 9.200 metri delle due gallerie. Si sono conclusi quindi a questo punto tutti gli scavi di tutte le gallerie della metropolitana 4. Infatti anche l'altra si trova all'ingresso della stazione. I lavori hanno visto all'opera nel complesso 1.500 persone. Proseguiti anche durante il lockdown, dopo un periodo di stop, i lavori procedono ora in vista della primavera del 2021, quando sarà attivata la prima tratta funzionale della nuova metropolitana, tra Linate e Forlanini, ferrovie dello Stato. Lo scavo ha toccato il record di produzione mensile di 540 metri lineari, 600 i mezzi transitati ogni giorno, 15.000 in un solo mese per un progetto imponente con 56 cantieri aperti anche nel centro di Milano. Cambiamo argomento, la Lega torna a chiedere lo sgombero del centro sociale Macau in Viale Molise all'ex macello di Milano. Questa mattina si è tenuto un presidio di militanti, residenti e rappresentanti delle istituzioni per chiedere al sindaco Beppe Sala un intervento urgente. Massimo Scarinzi. La Lega torna a chiedere lo sgombero di Macau, l'immobile occupato dai ragazzi del collettivo situato a Milano in Viale Molise e nei locali dell'ex macello. Questa mattina il presidio a cui hanno preso parte insieme ai militanti del carroccio e ad alcuni residenti anche l'europarlamentare Silvia Sardone e il commissario della Lega Milano e l'assessore regionale Stefano Bolognini. Per i leghisti Macau è un luogo di spaccio e di insicurezza, una ferita aperta su cui va messa la parola fine per riportare l'ordine. Per questo chiedono al sindaco di Milano Beppe Sala di intervenire e chiedere con forza la fine dell'occupazione denunciando una sostanziale mancanza di azione da parte dell'amministrazione comunale. Prima di approdare in Viale Molise Macau era stato sgomberato dalla Torre Galfa in Via Galvani e da Palazzo Citterio a Brera. Lo spazio è un luogo di cultura ed incontro per il quartiere, dicono gli attivisti del centro sociale che rivendicano la loro presenza all'interno dell'immobile abbandonato da decenni. Non è mancato qualche momento di tensione nel corso della manifestazione e qualche coro da parte degli attivisti di Macau che per la mattinata di oggi hanno organizzato una contro-manifestazione in risposta al presidio. Come sempre accade in questi casi. Ora sentiamo i protagonisti del presidio di questa mattina, l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone insieme al commissario della Lega Cittadina e assessore anche regionale e lombardo alla Casa Stefano Bolognini. Qua dentro c'è spaccio di droga, qua dentro c'è vendita e regale di alcolici, qua dentro non vengono rispettate le regole che vengono però richieste a qualsiasi commerciante di questa zona. Nel totale silenzio del sindaco che non solo sta zitto ma anzi dice che hanno un valore sociale, culturale, mi chiedo quale sia la cultura, se è quella dell'illegalità. Ecco noi non siamo d'accordo, quindi non solo come diceva bene Stefano Bolognini andremo a Palazzo Marino a richiedere ancora una volta quale sia la posizione del sindaco, ma qua oggi ribadiamo la richiesta di uno sgombero immediato dell'immobile. Non tollereremo che occupazioni così gravi di patrimonio pubblico possano essere tollerati, qua il principio è che nello stato di bisogno una persona può in un qualche modo essere motivata a occupare, non mi sembra se non rispetto a una secondaria, un principio di elinquenza che ci sia una qualche modo necessità di occupare uno spazio pubblico come questo, quindi è una roba davvero, l'ha detto bene Silvia, c'è un'occupazione abusiva, ci sono attività illecite, c'è una pericolosità rispetto all'uso degli spazi, il fatto che utilizzino forni, bombole del gas, eccetera, li metti anche in pericolo, davvero da qualsiasi punto di vista non c'è una ragione perché questi ragazzi occupino uno spazio pubblico. Ancora cronaca, 11 chitarre per un valore complessivo di 150 mila euro e la refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato nell'abitazione di un 57enne italiano incensurato. Gli strumenti erano stati sottratti ad un musicista, il 57enne è stato poi denunciato. Le indagini dei poliziotti del commissariato Sempione sono iniziati lo scorso 8 agosto a seguito della denuncia del musicista che custodiva le chitarre in un garage in affitto in piazza Giulio Cesare. La vittima, musicista e tenore, aveva scoperto che gli strumenti di gente valore economico, tra le quali una Gibson SEJ D200, era appartenuta addirittura a Elvis Presley, erano state sostituite le chitarre con altre chitarre di scarso valore. Gli accertamenti dei poliziotti hanno appurato che il proprio locatore del garage affittato, servendosi del proprio badge, si era introdotto per due volte di notte nel garage e aveva sottratto le chitarre. I poliziotti hanno inoltre accertato che il 57enne, anche egli collezionista di strumenti musicali, qualche giorno prima del furto aveva acquistato le chitarre di scalso valore, che poi aveva sostituito i preziosi prezzi di collezione. Le perquisizioni degli agenti hanno interessato circa 20 autorimesse tra Milano e l'Interland, inclusa l'abitazione del 57enne, trovandovi poi numerosi strumenti musicali accatastati. Gli agenti sono riusciti a recuperare tutte le chitarre, ad eccezione di una che nel frattempo era già stata venduta su internet. Tra i pezzi di collezione, oltre a quella appunto di Elvis, sono tornate al legittimo proprietario una Guild, un Admira, una Valeriano Bernal, una chitarra elettrica Fender Hot Rod e anche una Martin HD28. Ovviamente gli esperti capiranno di cosa si tratta. L'uomo, il 57enne, è stato denunciato per furto in abitazione. Ultima pagina nel grande spazio di Aceresio numero 7, all'interno del polo del design, è stata intitolata la nuova piazza dedicata al premio Compasso d'Oro, importante istituzione milanese dal 1954. Per questa settimana il Museo Adi aprirà i battenti in anteprima, per poi aprire definitivamente al pubblico a novembre. Vediamo. A inizio la cerimonia di intitolazione di Piazza Compasso d'Oro. L'assessore alla cultura e l'assessore all'urbanistica, insieme al presidente Adi, procedono allo scoprimento della targa. Una nuova piazza milanese intitolata al celebre premio Compasso d'Oro. Questa mattina gli assessori del comune di Milano, Filippo del Corno e Pierfrancesco Maran, insieme al presidente di Adi Design Museum, Luciano Galimberti, hanno scoperto la targa della nuova piazza che sorge dentro la grande area di Via Ceresio 7 a Milano. Con questa intitolazione Adi, l'Associazione per il Disegno Industriale, che dal 1956 riunisce progettisti, imprese, ricercatori, critici e giornalisti intorno ai temi del design, punta a radicarsi ancora di più sul territorio milanese. Alle spalle della grande piazza sorgerà il Museo Adi, che sarà aperto in anteprima questa settimana per poi richiudere i battenti fino a novembre, quando è prevista l'inaugurazione definitiva. Dentro sarà ovviamente il design ad essere il grande protagonista, insieme al racconto e all'esposizione dei premi con passo d'oro assegnati fin dal 1954, l'anno in cui il prestigioso riconoscimento venne istituito. Nonostante la crisi dovuta alla pandemia, il mondo del design guarda con fiducia al futuro per Luciano Galimberti, i segni di ripresa sono tangibili e la ripartenza dopo il blocco dovuto al lockdown fa ben sperare gli operatori del settore. Speriamo ovviamente. Come sapete insieme alle elezioni regionali ci sarà anche il referendum per il taglio dei parlamentari, tutti i partiti, tutti i leader stanno schierandosi per una parte o per l'altra e ebbene il sindaco di Milano Beppe Sala non ha ancora deciso, ha detto ci penso fino all'ultimo giorno perché ci sono stati tanti buoni motivi per supportare il sì e per supportare il no. Devo confessare che sono molto indeciso, ha detto Sala, voglio approfondire fino all'ultimo le ragioni, il percorso, è chiaro che il sì ha un senso se poi succedono altre cose, ovviamente intende la serie di riforme che vengono promesse in qualche modo e nel frattempo Alleanza Civica ha lanciato a Milano un manifesto che contiene un appello a votare no al referendum. Il manifesto è stato firmato anche da cinque assessori della giunta del sindaco Sala. Tra i primi firmatari c'è Franco D'Alfonso che è il presidente di Alleanza Civica e di Elisabetta Strada, consigliera regionale. Poi ci sono anche altri assessori comunali che hanno aderito, Laura Galimberti, Roberta Gognieri, Lorenzo Liparini, Paolo Limonte e Pierfrancesco Maranda. Dall'altra parte c'è tutto il fronte schierato per il sì, sapete che anche il segretario del Partito Democratico Zingaretti ha invitato a sua volta a votare sì, quindi i partiti, a parte il Movimento 5 Stelle, che è tutto schierato per il sì, sono abbastanza divisi al loro interno per votare da una parte o dall'altra. Cambiamo ancora argomento, l'Arcivescovo di Milano ha rivolto un suo videomessaggio agli insegnanti per la riapertura delle scuole. Contiamo su di voi perché la Chiesa è convinta che la scuola non sia anzitutto un'organizzazione burocratica, ha detto Monsignor Delpini, incoraggiando i docenti e tutto il personale scolastico. Anna Maria Braccini. Un videomessaggio per voi. Un videomessaggio dell'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini per dire l'attenzione che da sempre la Chiesa di Milano ha per il mondo scolastico. È quello che appunto l'Arcivescovo ha voluto inviare idealmente a tutti i docenti e le componenti della scuola attraverso il canale YouTube della Diocesi www.chiesadimilano.it in occasione del suono della prima campanella. Noi contiamo su di voi, dice i docenti, perché siamo convinti che la scuola non sia anzitutto un'organizzazione burocratica, ma una comunità rassicurante per tutti. Capace di contrastare le prepotenze del bullismo, lo scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia. L'invito è ad avere coraggio e a iniziare, per quanto possibile, con positività, questo anno difficile, 2020-2021. Noi contiamo su di voi perché siete adulti che possono testimoniare che vale la pena di diventare adulti. La comunità cristiana è alleata della scuola, continua Monsignor Delpini, che in conclusione dice. Con questo incoraggio l'inizio dell'anno scolastico. Tre parole. Noi contiamo su di voi. Coraggio. Alleati. Sempre in occasione dell'inizio dell'anno scolastico l'arcivescovo ha anche voluto comporre una specifica preghiera per la scuola che chiede sia recitata in tutte le parrocchie domenica 13 settembre. Inoltre, il primo d'ottobre, alle 17.30 in Duomo, verrà proposta una celebrazione eucaristica da lui presieduta per tutti gli insegnanti e i dirigenti. Era l'ultimo servizio. Mi fermo qui. Vi ricordo a seguire le previsioni del tempo. Poi c'è il nuovo stadio TG, le notizie di calcio della giornata e poi l'approfondimento. Il nuovo stadio, la trasmissione lunga fino alle 23 con Michele Marchetti, Paolo Pirovano e i loro ospiti. Arrivederci.